Musica Tripudio di musiche ad Arezzo con il maestro Giovanni Sollima e il suo prodigioso violoncello si tratta dell'ultimo appuntamento della stagione concertistica organizzata da Ars Nova alla Pieve di Santa Maria Sollima è uno degli interpreti più freschi, originali e interessanti del parolamma contemporaneo quindi prima di tutto l'improvvisazione, quindi due pezzi suoi e poi Tchaikovsky, poi Hayden, una composizione sublime e poi anche un pezzo dei Gentle Giant, questo gruppo inglese degli anni 70 quindi un panorama a tutto tondo che fonde insieme antico, contemporaneo per uno sguardo veramente fissato sul presente e che si fa anche condizionare volentieri dal rapporto col pubblico Una serata di musica senza confini, dai ritmi mediterranei al barocco passando per il metal il tutto assieme all'orchestra regionale della Toscana Viaggio sempre da una parte all'altra del pianeta e incontro suoni suoni diversi ma che legano in modo straordinario e quindi in qualche modo questo programma forse vuole raccontare anche questo usando diversi stili, diversi linguaggi mai suonato le stesse persone quindi diventa anche una forma di reattività alla differenza del suono, di un suono dall'altro è un sogno ma insomma si avvera è un sogno Grazie a tutti.